Buongiorno, il giorno si vede dal mattino, mi sono appena svegliata, c'è anche il khutbah della preghiera del giamaico perché oggi è venerdì, siamo musulmani e io vado prima di tutto a pregare Zohr, alhamdulillah, ho pregato il fajr, mi sono svegliata alle 6, poi ho pregato, poi mi sono andata a mettermi sul letto e comunque oggi sarà una giornata molto molto splendida in quanto non la vivrò io come voglio però ci sarà un'altra persona che può diciamo decidere come posso passare la mia giornata mangiando cibo italiano al 100% come se fosse italiana, quindi sono molto amizionata vado prima a pregare e poi torno subito per poter vedere come possiamo passare la nostra giornata ciao, ci vediamo ecco, mi sono ben preparata per poter andare, diciamo per comprare la colazione che sarà scelta dalla mia amica italiana Cristina perché so benissimo che la colazione che sceglierà per me non sarà casa nostra perché siamo una casa egiziana non siamo italiani, allora sono molto entusiasta riguardante il cibo, quello che sarà scelto da Cristina vediamo insieme cosa ha scelto per me salamolego e buongiorno allora per questa giornata all'italiano iniziamo con una colazione con cornetto e cappuccino uh, cornetto, brioche, veramente non me lo aspettavo però il cibo italiano in generale la colazione italiana è molto semplice non mangiano tante cose come da noi in Egitto, mangiamo full, tamay, bitinghe, parlo intanto in arabo riguardante il cibo egiziano perché deve essere così onorata con la lingua araba va bene mi piace, mi piace veramente bere il cappuccino così al mattino accanto al cornetto va bene, vado a comprarlo ciao guardate che sono molto dispiaciuta sto andando a comprare la mia colazione che sarà cornetto accanto al cappuccino mentre mi stavo preparando visto che loro stanno mangiando il panno alla griglia il mio cibo preferito oh, sono molto dispiaciuta guarda Cristina ti faccio pagare voglio mangiare pollo alla griglia come loro non è giustizia ecco, ho comprato tutto qui cari costi fitti e scuri molto grande buonissimo è davvero buono è bollente ma è buonissimo volete sapere come l'ho preparato? non vi preoccupate vi faccio vedere però prima di assaggiare il cornetto mmmm è il cioccolato guardate il cioccolato qui guarda Cristina è davvero buono riesco a guardare una cosa che mi piace magari una sera di tv in italiano va bene comunque vado a finire la mia colazione e vi porto alla ricetta del cappuccino come l'ho preparato guardate mattina mi sono alzato oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 una mattina mi sono alzato ho trovato l'impasso partigiano partigiano portami via oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao partigiano portami via che mi sento di morir se io moio da partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao se io moio da partigiano Tu mi devi seppellire Seppellire sulla montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire sulla montagna Sotto l'ombra un bel fio Ragazzi ho appena finito la collezione La collezione è stata davvero molto molto buona Era finita Però non ho mangiato tutto Il cibo non l'ho mangiato tutto Manca solamente questa parte del cornetto Non potevo finirlo E manca anche questa parte del cappuccino Buonissimo, però non potevo finire tutto questo Sono sazia, come dicono Sono sazia Poi vado a scherzare alcune foto Per mia sorella Che mi consigliano Il fotografo della famiglia Vi faccio vedere il tutto Intanto Ciao Cristina ha scelto per me la pizza con il pesce Questa è la pizza con il pesce Guardate Questo è il ketchup Eccola Vi faccio vedere Oh la mozzarella Quanto buona Allora 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 Stacciamo Per me la pizza con la pizza con la forchetta Fai ridere Perché ci sono delle persone qua in Egitto Dicono Non posso mangiare in quelle mani Devo utilizzare la forchetta Ma veramente se lo farai In Italia Farai ridere Per adottare in chiedi Ma c'è quella mano Grazie Per adottare in chiedi Un' Provee Per adottare in chiedi Poi Lentieri Lentieri Eccola Per adottare... Quo Quota 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 . 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 ma ci sono cose che si sono accaduto ma ci sono stati scopi guardatevi era un poverso c'è nulla ma ci sono stati molto carri questa è la pasta più buona che abbia mai cucinato complimenti per la cucina italiana c'è il nostro corso immagino questo è il nostro video è stato un po' 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 alla prossima alla prossima alla prossima alla prossima